Il problema è questo, che noi abbiamo cercato sempre, ma non solo in questi ultimi anni, da sempre, perché qua da mio padre adesso ci sono io, abbiamo cercato sempre di entrare nelle regole e nel rispetto di tutti. Il problema adesso è il degrado che c'è sia per chi lavora ma anche per chi abita qua, perché la sera ci sono le stesse condizioni che vedete la mattina, solo che la mattina ci sono i lavoratori e la sera le problematiche ce l'hanno chi abita nei dintorni del mercato anche, perché purtroppo andando noi via alle due, perché noi finiamo alle due, le persone di colore restano qua a lavorare e quindi c'è un altro problema per chi lavora qua. La sera qua è impossibile anche passeggiare più e quindi, ripeto, è un problema sociale più che altro, oltre che lavorativo e oggi avere problemi di lavoro è il primo problema che abbiamo tutte le famiglie. È una zona dove i commercianti che sono in regola non ce la fanno più, l'economia di questo territorio è andata anche adesso ad essere immarginata e abbiamo la difficoltà, la grossa difficoltà di poter creare le condizioni proprio per la sicurezza, per la quiete pubblica, come l'ultima volta, qualche mese fa è accaduto con alcuni extracomunitari che hanno aggredito alcuni italiani, adesso qui è diventata, diciamo, e vige la legge del più forte. Già noi stiamo combattendo con la crisi dei centri commerciali e cose varie, un episodio del genere ha fatto scappare tutte le persone che ipoteticamente dovevano comprare. Quindi i clienti non si... No, no, hanno paura e scappano, chiaramente, vedendo tutta questa guerriglia, poi creano disordine, c'è tutto un esterno di cose che bisogna sistemare al più presto perché qua, ripeto, ancora un'altra non voglio essere ripetitivo, prima o poi scapperà il motto.